Un anno dopo Mamma mamma Allora Millie deve andare a danza Sì mamma Quante volte te lo devo dire Ok dammela me lo mantengo io Antonio Va bene Allora bene ragazzi Allora è nato finalmente il fratelino Si chiama Antonio Ormai Millie ha sei anni Gessi Io ne ho 39 Il mio marito ne ha 43 Ormai siamo cresciuti di un anno Perché è passato un anno E quindi Come si dice Abbiamo ristrutturato anche Casa Ve la facciamo vedere Oppure ve la facciamo vedere man mano Che facciamo il video Facciamola vedere man mano che facciamo il video Oltremente diventa troppo lungo Va bene Allora mamma mia Visto che io ci siamo iscritti a danza Oggi dobbiamo andare ovviamente Giusto Mamma Sì sì Ok Allora vado a vestire Alla piccola Questa è la camera Del piccolo Antonio Questo è il bagno Come c'è questa camera sua Se la scelta lei Sì Allora Prepariamo tutto Questa è la scuadolina Per andare a danza La stessa vorrebbe un zainetto È vero mamma Mamma ce l'ho io Uno in più di quando Andavo all'elementare Va bene O il popino vallo a prendere Dammi piccolino Grazie mamma Prego Allora mamma Ci mettiamo il vestitino Della danza Sì Ed è questo qua Che ce l'hanno dato Mi cambio lì Sì mamma ce l'ho spogliato io Ah questa Poi l'acquetta Poi ci mettiamo la merenda Vuoi il succo di frutta Ah vuoi il succo di frutta Eppure l'acquetta però Eh mamma Ho il succo di frutta O l'acquetta L'acquetta Però mamma Prendiamo un po' di una scuadolina Così se si suga Prendiamo un po' di una scuadolina Oh sì 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 Certo mamma Eccolo qui mamma Ebbè Ok Una scuadolina Ora mamma Va giù in cucina Per prendere Un attimo La merendina Per tipo Vabbè perché c'è fame Papà Sì sì mi cambio Oh sì tesoro Aspetta che vengo Io vengo in comeretto di Antonio Lo faccio a dormitore Ok ma dopo deve venire con noi Non va niente Vabbè Mi accompagna solo a mamma Allora Ok Allora Io mi cambio Allora aspetta Cosa mi posso mettere Questo è il giubbino Direi Vediamo una film Magari Sì Il pan Meglio Quello era il vestito Per andare a casa Però Allora A mamma Non starei troppo tempo No Anche se hai 11 anni E tu hai fatto Quello che vuoi No Vado giù Eccomi Arrivata In cucina Questa è la cucina Con il salotto Allora Vediamo di metterle Una bella merendina Perché Di sicuro Le verrà tanta fame Però Io sto pensando Che qui nei lati Potremmo mettere Magari anche uno di questi Dopo la faccio prendere A mio marito Allora Prendiamo la merendina Allora Ragazzi Le ho fatto Il toast con la pesca Perché a lei piace Ora Te lo metto in una scatolina Così Non si Sporta Ecco ragazzi Sono messo una scatolina Così Non va Tutto Già lo mille Vieni qui a mamma Ecco qua Tesoro Che hai detto Prima che dovevo Attaccare questi Ora però no Dopo Sì Scusa Che te lo attacco adesso Appena torno Aspetta Attenzione Tu Tu vai ad accompagnare Intanto le appendo Va bene Papà ti aiuto Te li vado a prendere Ecco fatto Già lo ho preso Bravo papà Ok io accompagno a Miglia Scusa Ciao Ciao Vieni a Miglia Vieni Mamma ma qual è l'orario? È l'orario Mamma È Alle Quattro e mezza Anche se non sono le quattro e mezza Penso Non so Alle quattro e mezza Alle cinque e mezza Mamma Ah vabbè mamma Però Quando facciamo Venedì? Tutti i venerdì? Sì amore Tutti i venerdì Andiamo Vieni Vieni Tesoro Aspetta che Ora esco pure Io vado a comprare Un tappeto qua fuori Allora vengo Con te papà Il piccolino Il piccolino Andania Ok L'abbiamo preso Ciò Andamela a prendere Alla fine Ho trovato Due tappeti in cantina E anche qualche pianta Ok Ora andiamo Allora ragazzi Passando per strada Sì Abbiamo visto che c'era il regalo alla posta Così ci siamo fermate A vedere cos'era Vediamo mamma Mamma Premo io No mamma Apro io mamma Sì Apri Oh vedi Vediamo Cacchiamo Che cos'è Mamma Pizza Pure Chiamiamo a papà Io lo diamo a papà Oh che bello Dove me lo porto a casa Ma vedi sapete Dove lo devo mettere So cosa E' che lo fa Vabbè mamma Mi sono andiamo a casa Sì sì Andiamo a danza Bene bambine Adesso Che siete tutte Possiamo Iniziare la lezione Però dovremo aspettare Prima la vostra compagna Aspettate che io controllo Ragazze come va Qui La situazione Bene Stare facendo il plie Le cose Allungare la gamba Sì stiamo facendo Ok Vai Sonia vai Sì ma Cerco di allargarmi Allargati Sonia Non ci riesco Vai Sonia vai Sì Mi puoi aggiustare un po' La signora Sì Buongiorno Ah Millie Ciao Ciao Millie Posso andare a cambiarmi maestro? Sì dai Mi cambio Allora E Mi cambio Alcune Sanno Le le valizie Ma non ci sono niente Ci sono Ecco qua Ecco qua Apprendi la maestra Alla genetta Per favore Sì Ecco vai Vai questa è la tua postazione Vicino alla A Giorgia Ciao Giorgia Ciao Mi sono andata un attimo Ma non mi dimenticata di cedere Comunque sono Giorgia E sono quella Bambina che ti ha scritto il commento Nell'altro video Ah Andrà sei tu Non chiacchierate No maestra Ciao maestra Avevi detto che mi facevi una sorpresa Che bella sorpresa Mi hai messo nel tuo video Allora bimbe Plie Plie E un due tre Plie Brava Amore ma maestra Alzate la manina Alzate la manina Maestra Chi è? Sono Sonia Sonia che c'è? Ma quando viene l'altra maestra di Danzica? Ora Eccomi qui ragazze Alleluia Sonia prima ho detto Danzica Sonia lo sai che non ti dice Danzica? Lo so Marta però io dico Danzica Dai su Plie Alzate tutte la manina Si maestra Si maestra Scegliamo la manina E se la faccio anche senza No Dovete alzare la manina Anche tu E un due tre Plie E un due tre Plie E se sentite le altre voci Perché c'è anche l'altro maestro Quindi E un due tre Plie E un due tre Plie Plie E se voglio un attimo in bagno Allora ragazze La lezione è finita Potete tornare a casa Adesso vengono i vostri Ragazzi se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo domani Con una bellissima avventura Ciao ragazzi E mi raccomando Iscrivetevi E salutiamo in particolare Giorgia Ciao Giorgia Ciao